Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fibili per intervento di ripristino, frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione mare. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Chiudiamo con gli aerei, il volo Ryanair Pisa-Barcellona delle 13 e 25 è stato cancellato. Borsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!